Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, oggi siamo su Ultimate Fishing Simulator 2, il seguito ovviamente dell'Ultimate Fishing Simulator 1, che attualmente il primo capitolo lo trovate su stima 2,99€, il nuovo è uscito da pochissimo il 22 di agosto e costa 16,99€ scontato fino a fine mese, poi il prezzo intero è 19,99€, ciò che contraddistingue i due titoli, il primo impatto della pagina Steam è che il primo capitolo ha recensioni molto positive e questo nella media, perché questo appena uscito è ancora dei bug, quindi io mi sentirei di dargli fiducia, però se intanto volete magari aspettare e vi piace la pesca, 2,99€ non sono nulla e vi potete prendere il primo capitolo. Allora, questa è una simulazione di pesca delle tante che si trovano su Steam, a partire da Fishing Planet che è un free to play, che però punta comunque a spendere soldi, mentre invece qui tecnicamente dovrebbe essere diverso. Non ha molto senso che io vi mostri come funziona un tutorial, insomma, vi mostrerò quello che ha da offrire il gioco. Il gioco supporta il pad e potrebbe essere una scelta interessante, adesso non vedevate la freccettina perché avevo il pad attivo, riduce da una delle mie run di Elden Ring, ed è molto utile perché la vibrazione del pad, ovviamente se ne avete uno compatibile, vi permette di capire quando il pesce a bocca. Questo è un gioco, lo dico fin da subito, che è dedicato espressamente agli appassionati di pesca, oppure se la pesca vi piace, magari come a me, ma non siete dei pescatori, quindi non conoscete nulla, potrebbe esservi utile per passare il tempo e magari in sottofondo ascoltarvi qualche podcast, qualche video, insomma, qualche documentario, insomma, perché no. Allora, noi abbiamo la possibilità di andare a vedere la nostra attrezzatura, abbiamo attualmente due set iniziali, la canna poi composta da appunto la canna in sé, con la sua lunghezza, il suo mulinello e il filo, compreso anche l'esca e questo filo invece qui che dovrebbe essere, diciamo, non me ne intendo a dirvi la verità, quello per andare a pescare a fondo. Avete gli accessori che sono acquistabili nel negozio, tra l'altro hanno aggiunto la possibilità di mettere questi portacanna e quindi pescare con più di una canna e soprattutto l'allarme, che costava in 6.000 dollari, guadagnerete veramente pochissimo, io adesso avevo provato, adesso è in early access, avevo provato prima della release e mi davano 1.000 dollari, adesso ne avete solo 200, il triple pod, il double pod e appunto quello che suona. Aggiungeranno in futuro la fotocamera, la videocamera subacquea per vedere cosa succede sott'acqua. Io lo sto giocando a realistico, quindi non ci saranno troppi indicatori, insomma, però veramente tanti, tanti, tante cose, dalla pastura, quindi la possibilità di attirare i pesci verso di noi e vari tipi di pesca. Poi man mano andrete avanti potrete sbloccare salendo di livello varie location, così come potrete partecipare a missioni giornaliere che il gioco vi dà, oppure direttamente a tornei giornalieri in cui tutti i giocatori si sfidano perché il gioco è sì single player, ma ha una componente multiplayer, nel senso che vedrete sotto in basso a sinistra nella chat le parede dei vostri compagni online, insomma. Possiamo andare a pesca e vedete che abbiamo la possibilità di scegliere l'orario e il clima, ma soprattutto altre location. Livello 3, livello 7, si va a pescare nelle acque nordiche, si va in Slovacchia, si va in Mar Baltico, si va in Russia, si va addirittura in Tarilandia, a livello alto. E ogni location del fiume, del laghetto, insomma, cambia anche il tipo di pesce. La cosa veramente rilassante è che vi potete muovere, potete camminare, potete saltare addirittura per muovervi all'interno delle rocce. Graficamente è carino, si denota forse una certa, quella che sembra pesantezza, ma in realtà è semplicemente sensibilità del mouse. Possiamo andare a prendere la canna, adesso io non ho purtroppo l'amico che mi aiuta la pesca, quindi io non me ne intendo, questa è una pesca galleggiante, questa invece dovrebbe essere una pesca un pochino più rapida. Si può andare a settare la velocità di riavvolgimento del mullinello, così come la frizione, che è un 70% adesso, che adesso sto diminuendo tra l'altro. E va bene. E poi, tenendo premuto, andiamo a lanciare. Una volta lanciato, ho fatto una... ecco, l'ho incagliato nel... adesso lo riavvolgo velocemente... l'ho incagliato in fondo al laghetto come un bambù. Quindi adesso lo riavvolgo. Quello che ho notato è che il... le cose base che il gioco vi dà, come il filo base, le esche finte base, non si consumano. Mentre quando andrete ad acquistare delle esche un po' più efficienti, cambierà. È molto bello il filo, il movimento del filo, quando non lo avete adesso qui sulla canna. Adesso vado a lanciare. Poi vi farò vedere anche tutte le sezioni del negozio. Adesso intanto possiamo magari andare con varie tecniche a... possiamo spostarci. Non si vede, magari serviranno degli occhiali polarizzati, però in sintesi, col tasto resto tirate. Eccolo lì, che forse arriva. Bisognerebbe continuamente tirare con questo metodo di pesca, credo. Ok, dovrebbe aver abboccato, credo. Vediamo se siamo già fortunati. Sì, 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 direi di sì. Quindi continuiamo a tirarlo su. Vediamo se ha abboccato. Vediamo. Sì, direi proprio di sì. Speriamo di non finire il filo. No, mi sono forse solo incagliato. No, no, eccolo lì. L'ho preso, l'ho preso. Eccolo lì. E ci fa vedere la pareda che abbiamo preso. Un pesce gatto nero. Gioco in italiano, tra l'altro. Contrario di Fishing Planet. L'avevo provato prima della release. Non era in italiano. Non me l'aspettavo, perché era segnato italiano, ma c'era anche le access. Quindi, vedete, in questo caso, noi possiamo decidere di tenerlo. Prendiamo 4 di esperienza. Liberarlo, 6. Andando avanti, aumenterà questa percentuale, ma sarà sempre più alta per il libera. Piuttosto che per il tenere. Quasi un chilo, 40 centimetri. E se noi dovessimo venderlo, poi, ce lo pagano un dollaro e 23. Pochissimo, calcolando che le cose più costose costano 6.000 al market. Comunque, io lo tengo e lo metto via. A questo punto, voi avete la possibilità di vedere, nella rete da pesca, la possibilità di venderlo o liberarlo. O addirittura, aggiungerlo all'acquario o aggiungerlo ai trofferi e vederlo in 3D. Vedete, il pesce gatto. Non l'avevo mai visto. Allora, io adesso decido di metterlo nell'acquario. Perché? Perché nell'acquario, poi, in casa, potrete andare a vedere la vostra. Adesso vediamo se riesco a farvelo vedere. No, non abbiamo nulla. C'è, abbandono la località, perché ufficialmente siamo ancora nel laghetto a pescare. Potremmo andare a casa. A casa è una casa un po' così, perché è più una galleria d'arte, dove appenderemo i nostri trofei. Ma soprattutto vedremo, vorrei bellissimi quadri, ma vedremo anche i pesci. Qua non c'è, non c'è. Dove, dovrebbe essere... Qui? No, forse qua. Eccolo lì. Vedete? Il pesce gatto che abbiamo pescato prima, che è qua nel... Però... Possiamo andare a gestire, vendere, liberare, vederlo nei trofei. Possiamo andargli a dare da mangiare. Nutri i pesci, ma ovviamente dobbiamo comprare. Non so il senso di tutto questo, perché comunque si parla di acqua dolce, acqua salata. Non so se poi divideranno il tipo d'acquario o posso mettere insieme. No, ma penso siano già divisi per conto loro. Abbandono la location e vi faccio vedere anche il negozio. Non ha senso stare qui e giocare mezz'ora a pescare, perché sarebbe comunque un chiacchierare e basta. Magari per una live si potrebbe fare, ma il senso del gioco è andare a pescare, a rilassarsi, perché è un gioco fondamentalmente rilassante, oppure partecipare ai tornei e vincere i tornei con altri giocatori. Potete organizzarne uno anche voi, ma al momento qua non lo vedo. Non ci sono tornei disponibili. I miei tornei, sì, il tornei lo create, quota di iscrizione, perché ovviamente quando andate a fare i tornei c'è la quota di entrata. Torneo regolare, vedete, 50. 4 su 10, al momento non scade tra 9 minuti. È un monte a premi di 200, quindi non è tantissimo, però. Se sapete le tecniche, sapete dove andare, sapete cosa usare, potrebbe darvi un grande vantaggio sugli altri. Il negozio, vi faccio vedere giusto per pacchetti iniziali. Vedete, qua ci sono i pacchetti 56 dollari, dollari di gioco. Sedda pesca. Le canne, ne avete tante, tantissime. Adesso ve lo mando avanti piano, piano. Queste sono le canne. Canne da galleggiante, da spinning, da casting, che non c'è, da feeder. I mulinelli, che sono, non sono tantissimi questi, questi qua. Le lenze. Che poi, presumo anche che si rompano queste. Divisi in mono, fluorocarbonio, intracciata. I galleggianti. Io ho una particolare preferenza per questi. Tra l'altro, con i riflessi dell'acqua, il galleggiante non si vede nemmeno in gioco, ma c'è una grafica qua in alto a destra, anche in modalità realistica, che vi fa vedere a che livello è dell'acqua un pochino. Parastrappi. Ecco, è quello che non sapevo cosa fosse prima. Contenitore per la pastura. Questo lo mettete con delle esche sotto l'acqua e attirate verso di voi. Gli ami. Diversi tipi. I free, ovviamente. E poi quelli più belli, con anche il triplo uncino. Le esche naturali. Quindi le esche naturali, l'impasto, il pane, il formaggio, così come le esche vive. Il lombrico, la larva, il tricottero, il caster, la mosca e così via. E le artificiali. Cocchiaini, però tanti, esche morbide, quelle che usavamo prima, le rane, minnow, top butter, crankbait, i piombi. E anche questo è molto importante configurare i piombi per... Ecco, ecco qua. Che costano comunque non tantissimo. E poi gli accessori, quindi supporti, segnalatore di abboccata e le fionde, che non so cosa siano, ma va bene. Questa è un'altra cosa. Avete le statistiche con tutti i pesci che avete trovato. Vi faccio vedere anche questo, tutti i pesci che ci sono. Credo ci sia anche l'acqua salata. Tonno, sì, infatti. Con le vostre, diciamo, misure massime, diciamo, e di peso raggiunte. Queste sono le... I tasti. Gettare la lenza. Il mulinello. La resistenza dei pesci. Pesca con il galleggiante. Ci spiega praticamente tutto su questo tipo di pesca. Spinning. Quindi anche se siete digiuni di pesca, insomma, lo potete imparare. Sbloccando livelli, guadagnate punti e abilità, precisione, così via. Modalità di gioco normale e realistica. Infatti, giocando in realistica, non avete la visuale subacquea. Avrete la telecamera subacquea. Il teletrasporto, la facoltà di cambiare le condizioni meteorologiche, prevede una classifica separata. Ok. Avete la pesca. Ci spiega la casa, cosa serve, i trofei, gli acquari, le missioni e i tornei. Questa è una buona, diciamo, presentazione. E niente, questo è Ultimate Fishing Simulator 2 per gli appassionati di pesca. Ovviamente non è un gioco per tutti. Se amate l'azione, no? Non va bene. Però vi faccio vedere un'ultima cosa. Vado a pesca. Potete andare a pesca anche con la tempesta, insomma, di notte. Insomma, potete scegliere. Però luoghi ce ne sono. Cioè, andando di qua, dovrebbe esserci, ecco, lì dietro quelle assi. C'è un altro tipo. Io qui ci ho trovato i lucci, ad esempio. Ma trovavo pesci soprattutto molto piccoli. Quindi non ci ho perso tempo più di tanto. Però questa è un'altra zona. Poi ogni tanto passa anche qualche taronco, qualche sporco. Mi spiegavano che alcuni pesci si trovano solo là, dove ci sono quelle alghe che affiorano. Insomma, non pescarci proprio in mezzo. Però in quelle zone lì, altri pesci abitano parti del fiume diverse. Da queste bisogna muoversi, bisogna spostarsi. Qua c'è un parcheggio senza possibilità di parcheggiare. Però ecco, con la musica in sottofondo o anche senza musica, con i soli rumori naturali, vi rilassate. Vate qui, fate la spesa. La pesca. La spesa di pesce. Vate la vostra pescata da soli. E poi, come vedete, in basso a sinistra c'è True Daddy, cattura un pesce. E quindi vedete le altre persone. Potreste anche giocare con amici, se non mi sbaglio. Dovrei vedere adesso un attimo. Però in fondo comunque c'è una cosa interessante, che è l'ora del giorno. Perché è l'ora del giorno vero, perché potresti perderci le ore. Ovviamente io non sono uno sfegatato della pesca. Infatti questo potrebbe essere un gioco ideale nel periodo in cui non so cosa fare. Non ho un gioco preferito, non ho un gioco che mi sta intrattenendo. Allora mi ascolto i miei classici podcast su YouTube, ascolto i miei video e magari intanto pesco. Perché no? Perché pescato uno, uno tira l'altro, insomma. E vi viene voglia di pescare sempre di più. Molto bello il ramo che passa via così. E va bene. Questo era Ultimate Fishing Simulator 2 in Early Access, 16,99 scontato fino a fine mese, se no a 19,99. Li vale per un appassionato di pesca, secondo me sì, ma al momento magari qualche baghettino di troppo, perché ovviamente è appena uscito, se vi va 2,99, vi potrete prendere il primo capitolo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Calcolate che rispetto a un fishing planet, perché potreste dire c'è il free to play, però lì c'è magari più un pay to win, ma soprattutto non è in italiano. Per un gioco di pesca non c'entra molto, però so che molti di voi hanno particolarmente a cuore questo discorso della lingua italiana e con cui sale la lingua italiana. Un saluto a tutti, fatemi sapere qua sotto, ovviamente come sempre, nei commenti. Alla prossima ragazzi e ciao ciao! Grazie a tutti!